Un grazie a Joseph Ripport per l'eleganza della moda di Miss Italia, grazie a Rocchetta, l'acqua minerale bevuta questa sera anche dai nostri giurati, grazie a Lotto, Lotto è la moda sportiva che veste le nostre Miss. Cinque, le ragazze che verranno fasciate questa sera ed iniziamo subito a premiare la quinta classificata con Franco Moscò e Marco Beato. Iniziamo ad assegnare la prima fascia, ecco qui i nostri giurati, quindi sale sul podio con la fascia di Miss Interplora. Maria Vittoria Tognatti, numero 4, Miss Interplora. Bene, complimenti, grazie. Proseguiamo, per premiare la quarta classificata con il titolo di Miss Compagnia della Bellezza chiamerei Roberto del Salone High Fashion di Mezzano. Eccolo qui, Compagnia della Bellezza che premia la Vienicultura per dare la fascia, eccola. Quarta classificata, quindi quarta classificata è Elisa Verde, complimenti. Elisa Verde, numero 13, Miss Compagnia della Bellezza. Per premiare Miss Miluna, terza classificata, chiamerei Libiana Tibensky e Mattia Simone. La fascia appunto è quella di terza classificata, quindi la medaglia è quella di bronzo, fascia e premi. Miss Miluna, terza classificata, è la numero 6, Eleonora De Fazio. Eccola qui, terza classificata, prego, Eleonora. Miss Miluna, Miss Miluna, Miss Miluna. Miss Miluna, Miss Miluna. Miss Miluna, Miss Miluna. Miss Miluna, terza classificata, chiamiamo Mauro Zene e Floriana Simone. Eccoci qui, il premio e la fascia. Miss Bellezza Rocchetta, seconda classificata, è la numero 9, Laura Unterhofer. Laura Unterhofer, seconda classificata, Miss Bellezza Rocchetta. E per premiare la prima chiamerei il vice sindaco Clara Bonat, Danilo Perotto, Marta Gario e Francesca Guadagnini per consegnare il gioiello offerto dalla gioielleria Bellotto di Fiera di Primiero. Eccolo qui. Allora, Corona e gioiello alla gioielleria Bellotto, la Corona rappresentante del Consorzio Turistico che ringraziamo per l'appoggio, prego la fascia qui. Io prima di proclamare la vincitrice vi chiedo veramente l'applauso per tutte le ragazze, tutte bravissime, tutte bellissime. Ricordiamo che non è facile mettersi in gioco. Ancora poche possibilità per loro, ricordiamo le ultime date disponibili, il 5 agosto a Scena a Merano e il 9 agosto a San Lorenzo in Banale, le ultime due possibilità per qualificarsi. Ma veniamo al dunque. Chi ha vinto questa sera Miss Miluna Mezzano? Miss Miluna Mezzano è la numero 18. Elena Marine! Elena Marine! La corona, offerta da Miluna.